Noi non possiamo per un dato che al momento è solamente di uno o due giorni, pensare che ci sia un trend e quindi la tendenza ad avere un maggior numero di casi positivi sulla costa piuttosto che nell'entroterra. Quindi dovremmo sicuramente aspettare qualche giorno e poi magari ragionare sui numeri e vedere quella che è la vera tendenza. Semmai c'è da dire che questo lockdown morbido sicuramente sta dando i frutti sia nella nostra regione che nel resto della nazione del paese. E in effetti noi osserviamo un minor numero rispetto al recentissimo passato di casi letali, di casi che sono andati in rianimazione, di casi globalmente che hanno richiesto un ricovero in ospedale. Sono preoccupato sia da medico che da cittadino perché abbiamo riscontrato che nel recente periodo estivo purtroppo molte persone non portavano praticamente mai la mascherina, ci sono state assembramente feste e quant'altro e quindi poi la situazione attuale in realtà è figlia di quella situazione di non attenzione generale. Quindi ovviamente un po' sono preoccupato perché le feste di Natale sono molto sentite in Italia e da noi forse in particolare, per cui si ha appunto la voglia di abbracciarsi e di abbracciare dei familiari, degli amici eccetera. Bisognerà stare molto molto attenti. Non mi stanco mai di ripetere che un atteggiamento comportamentale congruo, l'uso della mascherina, è fondamentale. La mascherina non fa circolare il virus. Fondamentale è anche il lavaggio delle mani, ovvero l'uso di gel di alcolici, come tutti quanti ormai sappiamo, è fondamentale e anche evitare gli assembramenti. Quindi le feste con una numerosità di partecipanti importante. Certo, adesso durante le feste di Natale si è propensi a riunirsi in casa. Vedremo innanzitutto cosa dirà il Premier Conte, vedremo cosa diranno i governatori in ottemperanza a delle norme, dei dettami che verranno da Roma e che Dio ce la mandi buona perché oggettivamente un po' di preoccupazione c'è.